a voi mi sembra normale che un bambino che puzza di latte che non ha neanche i peli sul pube ragazzi faccia questo rompere il cazzo così non avere rispetto per le persone altrui allora ragazzi io mi sono rotto cazzo di tutta questa gente di tutti questi bimbi minchia che non è neanche colpa loro ma è colpa dei loro genitori che non sono capaci di insegnarvi l'educazione perché si chiamano leoni da tastiera ma se queste persone avessero davanti la persona io non credo proprio che si comporterebbero così è proprio uno schifo è uno schifo ragazzi allora siccome io mi sono rotto i coglioni volevo fare questa cosa qua io vi lascio il gamertag qui in alto ragazzi questa è la persona anche su telegram ha fatto vari account per rompermi il cazzo per insultarmi perché ha bruciato due macchine perché sicuramente è un coglione che non è capace a fare glitch e allora invece di prendersi la sua responsabilità ragazzi rompe il cazzo a me dicendo che io non sono incapace a fare il video ma duemila iscritti non ho mai avuto questo tipo di problema arriva lui fresco fresco e si comporta in questa maniera quindi raga io sono stufo sono rotto il cazzo di voi bimbi minchia ok e purtroppo siete anche la rovina siete la rovina ragazzi di napoli siete la rovina della campagna ok perché è una terra bellissima ma siete sempre voi bimbi minchia del cazzo ok i 13 14 15 anni napoletani che devono rovinare quella bella città ok comportandovi in questa maniera ma chi cazzo vi credete di essere eh coglioni chi cazzo vi credete di essere io non ho ancora capito il potere la soddisfazione che avete nel scrivere questa roba alla gente soprattutto a uno youtuber che è praticamente gratis di portare i contenuti solo per il piacere di farlo ok ingratide cazzo con questo chiudo raga vedete voi se volete andare a eliminare tutta questa gente quindi rompere il cazzo in tutti i modi possibili immaginabili il gamertag io ve lo lascio qua sopra bella rega grazie del sostegno sbavà se vi so di una giunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram next gen e all gen ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da ps in descrizione trovate i gruppi anche per playstation iscriviti a tutti i miei sociali